Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura ancora la situazione dei roghi che stanno interessando la nostra regione perché continuano senza sosta le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato martedì 19 luglio sul Carso tra Trieste e Gorizia. A causa dell'avvicinarsi sul fronte dell'incendio dal territorio sloveno nella tarda serata di ieri sono state precauzionalmente fatte evacuare 300 persone dalle frazioni di Savogna e di Sonzo. Tutte sono state fatte rientrare questa mattina. Ha scongiurato l'aggravamento dei roghi. Vediamo qual è la situazione attuale. La Bora soffiata e nottata meno forte di quanto si prevedesse. La pioggia caduta e il lavoro di circa mille vigili del fuoco sloveni hanno impedito che l'incendio sul Carso sloveno si propagasse anche in Italia. È il bilancio dell'ennesima difficile notte da quando si è sviluppato l'incendio sul Carso triestino, martedì. Ieri sera, quando si è capito che era in arrivo Bora dalla Slovenia, si è temuto che l'incendio potesse raggiungere l'Italia. Sono state fatte evacuare 300 persone da frazioni di Savogna e di Sonzo dopo aver allestito strutture di accoglienza. Nella notte molti hanno trovato sistemazione autonoma. Rientrato l'allarme, come ha fatto sapere il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, le persone sono state fatte rientrare in casa. Tira il fiato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione Civile e alla Salute, Riccardo Riccardi. Mi pare che sia andato tutto sommato bene. Vedremo oggi. Siamo al lavoro. I velivoli di soccorso si sono alzati in volo da ore. Due Canadair e due elicotteri. A terra continuano operazioni di spegnimento e bonifica del terreno. In tutta l'area tra Italia e Slovenia è piovuto, ma non in maniera intensa e per un breve periodo. In Varresia, stamani, sono riprese le operazioni di spegnimento e stanno operando un Canadair e un elicottero. In Slovenia, oltre mille vigili del fuoco e circa 260 forestali sono ancora al lavoro, ma il fuoco non è ancora spento. A sostegno ci sono elicotteri, un velivolo militare e un Canadair. Dispiegati anche 130 militari. Oggi sono attesi rinforzi di vigili del fuoco da tutta la Slovenia. E ci colleghiamo adesso con il nostro Alberto Comisso che si trova con il sindaco di Savogna di Sonzo, Luca Pisc e ci aggiorna sulle ultime dal luogo. A te la linea Alberto. Buongiorno Monica, ci troviamo a Savogna di Sonzo. Siamo all'interno della palestra comunale dove è stato allestito un vero e proprio campo di emergenza. Ci sono delle brandine dove stanotte hanno dormito 11 persone. Sono alcune delle persone che non avevano riferimenti, punti d'approdo per evitare le fiamme che si erano propagate, si stavano propagando in alcune delle cofrazioni. Gabrie e San Michele. La situazione però è tornata alla normalità e le persone sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Andiamo a raggiungere allora il sindaco Pisc che gentilmente ha accettato di raccontarci come è andata la nottata e soprattutto com'è lo stato dell'arte la situazione. Buongiorno sindaco, ci puoi raccontare la situazione com'è? Soprattutto tanta paura, ma fortunatamente tutto è rientrato nella normalità. Sì, buongiorno. Tanta paura, più preoccupazione perché il problema era la bora. La bora davano la bora sull'uno di notte e quello era il problema di cui dopo è nata tutta questa situazione di stato di emergenza con l'evacuazione. Ovviamente tutto questo è gestito dal comandante dei vicini di fuoco di Gorizia con la prefettura. Si è deciso di fare questa evacuazione alle otto e mezza è cominciata l'evacuazione. Devo dire che tutti i cittadini si sono comportati benissimo, hanno capito la situazione. Qualche anziano magari un po' era già in casa e hanno preso un po' così, un po' di preoccupazione ovviamente, ma con l'aiuto dei cittadini insomma è andato tutto per il verso giusto. Un ringraziamento. Ovviamente qua va la protezione civile non solo nostra, di Savonison, ma anche di Gorizia, di tutti i volontari che hanno dato una mano, hanno restito un campo base, veramente un batter d'occhio. Funziona molto benissimo la protezione civile. Devo fare veramente i miei complimenti. Ecco, signor, il rischio è la bora, no? Lo scirocco non preoccupa tanto, la bora invece, ecco. Possiamo dire emergenza finita oppure c'è ancora da tenere le antenne belle alte? No, non è l'emergenza, c'è ancora. Ovviamente bisogna sempre essere molto attenti anche se in questo momento dalla parte zovenna ci sono solo dei piccoli focolai. Sì, io spero che questa storia finisca perché sono già più di otto giorni e ci ha messo veramente sotto pressione specialmente tutti quei volontari e tutti i vigili focoli che hanno lavorato non stop. Io spero che finisca oggi o fra un'oretta e mezza o un'altra riunione giù a Doberdò, anzi a Giamliano dove c'è... Altro punto critico. Altro punto critico e dopo vedremo le ultime informazioni che mi daranno. Allora con il sindaco PISC che ringrazio, io Monica ti ricedo la linea e ci sentiremo per i prossimi aggiornamenti. Grazie Alberto. E a Giamliano, frazione di Doberdò del Lago si prova a tornare alla normalità dopo l'incendio che ha devastato ettari di area boschiva carsica. C'è chi vive da giorni con la valigia già pronta nel caso in cui dovessero scoppiare nuovi focolai e chi è stato salvato dalle fiamme. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Vediamo. Mercoledì mattina mi sono svegliato e ho trovato un autobot e dei pompieri qua davanti a casa e che sono andato giù ho chiesto e mi hanno detto che erano qui per tenere a bada l'incendio intorno a queste tre case. E' andato tutto a posto alle 11 e alle 11 ho visto che si stavano cambiando e ho preso paura. Mi hanno detto tira fuori la macchina alle 11 e mezza mi hanno detto vai via solo che non potevo più andare via. Era circondato dalle fiamme? La strada qui aveva le fiamme e la strada di là siamo andati avanti con la stafetta dei pompieri sloveni e erano le fiamme. Per fortuna mi hanno fatto mettere nell'acquedotto sloveno qui c'erano 7 autobotti 50 vigili siamo stati lì a aspettare che il fuoco si spegnesse dal sole. Che situazione signora sta vedendo in questi giorni? Terribile di paura e poi abbiamo il marito anche che sta male mio marito e perciò Maligie sempre pronte? Sì pronte non le abbiamo ancora disfatte e aspettiamo speriamo che i focolai non riprendano ecco lei quindi non ha mai abbandonato la sua casa? No no e il sindaco di Doberdo del Lago Fabio Vizintin ha raccontato ai nostri microfoni la drammatica situazione che si sta vivendo nel suo comune sul fronte incendi la situazione sta migliorando ma potrebbe precipitare nuovamente da un momento all'altro diciamo che la situazione è la seguente fondamentalmente sul Cremeniac che è il monte delle mie spalle e sulla Rupa Cupa che invece è il monte che mi sta di fronte fondamentalmente si stanno eseguendo delle operazioni di bonifica ovviamente la bonifica dovrà durare un po' più di tempo perché praticamente le superfici bruciate sono notevoli stiamo parlando comunque di almeno 500 ettari se non di più e poi ovviamente stiamo monitorando anche la situazione sul Carso Sloveno che è quella che in questo momento è molto più critica e diciamo che praticamente stiamo monitorando perché fondamentalmente non vogliamo che ci sia un'espansione anche verso il nostro territorio il contatto con i suoi cittadini come è stato in questi giorni soprattutto che cosa le hanno detto c'è timore per le proprie abitazioni c'è timore per vedere praticamente come si evolve tutta la situazione che è molto instabile la speranza è quella che tutto si finisca il prima possibile per questo l'auspicio è in un cambio meteorologico assai rapido purtroppo non possiamo deciderlo noi ultimo pagina ma rimaniamo sulla cronaca versa in gravissime condizioni una donna di 23 anni di San Daniele che ieri notte è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Campoformido all'altezza del villaggio Primavera in sella la propria moto la giovane è entrata in collisione con una macchina le sue condizioni sono apparse subito molto gravi soccorsa da personale del 118 la motociclista è stata trasportata con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Udine rilievi dei carabinieri cambiamo ancora pagina l'assessore regionale al bilancio Barbara Zilli ha partecipato alla terza marcia per Nadia Vidulis di Dignano l'appuntamento in memoria della giovane uccisa dal suo ex il 31 luglio 2017 con la sua presenza la Zilli ha voluto sottolineare come la regione sostenga tutte le iniziative e gli strumenti legati alle pare opportunità e alla lotta alla violenza contro le donne oggi qui a Vidulis di Dignano abbiamo percorso insieme a tantissime persone la terza marcia per Nadia nel suo ricordo ma anche nel ricordo di tutte le ragazze vittime di femminicidio e in particolare la dedica quest'anno va a Elisabetta siamo convinti che iniziative come queste debbano essere continuamente sostenute per riportare al centro della nostra società la comunità il fatto di vivere insieme di condividere i momenti belli e brutti della vita perché sono anche questi momenti nei quali ci si può confrontare per trovare delle soluzioni la regione è convintamente pronta a sostenere tutte le iniziative legate alle pari opportunità e agli strumenti per contrastare la violenza contro le donne oggi la testimonianza di Vidulis di Dignano ne è una conferma e la Capitaneria di Porto ha celebrato il 157esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo e nell'occasione è stato presentato un quadro dell'attività svolta in Friuli Venezia Giulia nel 2021 vediamo sono 157 le persone salvate dalla Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia nel 2021 nel corso delle celebrazioni del 157esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo è stato tracciato un bilancio dal comandante Vincenzo Vitale che sottolinea la grande cultura marinaresca in regione sì assolutamente guardi i nostri interventi in termini se vogliamo come dire di situazioni che hanno nella regione che hanno avuto una sanzione insomma parliamo di un centinaio lo scorso anno durante il periodo estivo l'attività ha visto 3.250 controlli sulle navi e proprio il porto ha visto uno sviluppo delle merci trasportate con un aumento di 1,2 milioni di tonnellate e di passeggeri passati da 2.400 del 2020 per i motivi noti ai quasi 90.000 del 2021 non è mancata l'attenzione sulla filiera della pesca con 426 ispezioni e poi nel di porto con 1.513 controlli per gli spettacoli è stata presentata a Cinvidale la 31esima edizione di Mittelfest vediamo il servizio di Ivano Matius con il premio alla carriera dell'Aideristoria Dariella Reggio attrice ed imprenditrice di teatro triestina grande interprete del teatro italiano la chiesa di San Francesco di Cividale ha fatto da scenario all'anteprima di Mittelfest 31esimo festival internazionale e multidisciplinare che sino a domenica 31 luglio trasformerà la cittadina a Longobarda è in unico grande palcoscenico con 28 spettacoli di 15 paesi selezionati dal direttore artistico Giacomo Pedini tra i quali 20 prime assolute o nazionali e 10 produzioni coproduzioni che uniscono diversi linguaggi fornendo spunti di riflessione sull'attualità imprevisti titolo dell'edizione 2022 si propone infatti di leggere il presente partendo da radici che si ancorano agli aspetti meno evidenti della storia per guardare al domani e alle sue potenzialità sia umane che tecnologiche e la serata del premio Ristoria ha pure offerto l'occasione di presentare Mittel Babel progetto di archivio digitale del festival ideato dal giornalista Roberto Canzian a richiamare la torre di Babel e le tante lingue che hanno attraversato Mittelfest in tre decenni le lingue della prosa musica danza poesia marionette teatro di figura ma anche le decine di lingue europee ma non solo con cui si sono espressi gli artisti ospiti triestina di origine Ariella Reggio ha vissuto a Londra con i primi anni trascorsi come speaker della BBC per i corsi di italiano ai quali hanno fatto seguito quelli dell'avvicendamento al teatro internazionale e dai grandi interpreti d'oltremanica nel 1976 dopo essere stata attrice del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia Ariella ha fondato a Trieste la Contrada compagnia di teatro popolare che intendeva offrirsi come alternativa a quello stabile e che continua ad avere grande successo fra gli appuntamenti della giornata inaugurale al teatro Ristori è andato in scena in prima assoluta la singolarità di Schwarzschild pièce centrata sulla figura di Albert Einstein e del collega Karl Schwarzschild che descrive l'universo delle falle dilaniato dalla grande guerra laddove oggi confinano Ucraina e Bielorussia con l'attrice ed acrobata Luna Betelli ed il violoncellista Michele Marco Rossi il telegiornale termina qui grazie per essere stati con noi vi auguro un buon pomeriggio grazie per la visione